I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Iesi hanno arrestato due stranieri tra i 20 e i 30 anni. Erano stati individuati nel parco del Vallato come probabili spacciatori, poi nella nottata sono stati bloccati in una casa disabitata nel centro storico all'interno della quale erano occultati circa 100 grammi di hashish diviso in 15 dosi e mezzo panetto, oltre a 400 euro in contanti, forse provento dell'attività di spaccio. Come è avvenuto in altri comuni delle Marche, tra cui Pesero, Fano ed Urbino, gli arresti si inseriscono nell'ambito dell'attività programmate per il contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, in particolare nei luoghi di maggior frequentazione da ragazzini e adolescenti. In particolare per il parco del Vallato e zone limitrofe, dove sono stati registrati episodi di spaccio e di vandalismo, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha disposto dal 15 novembre l'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo.